Consegnato questa mattina l'immobile confiscato a Battipaglia per essere destinato al Ministero della Giustizia per gli usi degli uffici giudiziali del distretto della Corte di Appello di Salerno. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità ha consegnato alla conferenza permanente il bene confiscato di Viale Inghilterra alla presenza dei vertici della magistratura serenitana, il direttore dell'AMBS, cioè il direttore dell'Agenzia del De Mani, per la sindaca di Battipaglia. Alla giornata di oggi è una giornata molto importante perché appunto è una riaffermazione della legalità di beni di provenienza illecita che erano finiti nel patrimonio di un soggetto indiziato di appartenenza a cosche mafiose che era Antonio Campione, al quale appunto sono state confiscati questi immobili, immobili che ora ritornano, vengono restituiti alla collettività. Questo è il significato più importante della risposta migliore al terribile episodio di ieri che si è verificato appunto ai danni di un avvocato. Per quanto riguarda questa consegna la valenza positiva è duplice, innanzitutto perché ritorna alla collettività e allo Stato un bene che è stato acquisito con i soldi illeciti della mafia e poi perché si colpisce l'organizzazione camorristica proprio nel cuore dei suoi interessi che sono gli interessi economico finanziari perché voi mi insegnate che nell'ambito della subcultura parassitaria di tipo camorristico per i personaggi stare in galera a volte fa anche curriculum paradossale ma è così. È il vero ripristino della legalità perché forse alla gente poco interessa le condanne dei vari camorristi della zona, gli anni di carcere che prendono rimangono sulla carta ma il segno tangibile del ripristino di una legalità violata sono fatti come questi perché le condanne rimangono sulla carta o sui titoli di giornali invece questi sono fatti concreti, questo è un capannone che apparteneva a, voglio dire che è stato confiscato perché provento di azioni delittuose, di appartenenza a associazioni camorristiche adesso viene restituito allo Stato, è un fatto che sotto gli occhi di tutti, che tutti possono vedere, prima c'è la illegalità, qui oggi c'è la legalità. Questo è anche un segnale positivo e di ottimismo verso tutti i cittadini che a volte sono un po' sconfortati per dire che lo Stato c'è e il ripristino della legalità, questa è un bene grandissima legge che ha previsto la confisca perché tu la mafia la combatti confiscandoci e prendendo di beni che hanno sottratto alla comunità in maniera non legale, quindi il recupero di questi beni e la possibilità di restituirli alla collettività.